I ministri quando dicono che vengono arrivano da noi, però devo dire che giustifichiamo il ministro Giorgetti perché a quanto pare oggi ci sarà un consiglio dei ministri molto importante e ci è stato spiegato, non ci sta sentendo ma lo sto spiegando voi, me l'hanno raccontato, ci è stato spiegato che stanno preparando delle cose che probabilmente riguardano anche temi di cui abbiamo parlato poco fa con i nostri ospiti. Tanto riguarda nel sud perché c'è da mettere dell'altro su Ischia, ma non soltanto quello perché ci sarà un consiglio dei ministri molto importante perché si cominciano a prendere i provvedimenti concreti anche relativamente alle realtà industriali che vanno prese in mano. Quindi mentre aspettiamo che il collegamento riprenda, io devo dire che fino a questo momento… Possiamo dire tutto quello che avremmo voluto chiedere al ministro Giorgetti? Eh sì, naturalmente gli chiederemo della manovra, qualcosa… Certo, ci sono ancora comunque 4-700 milioni tra gruppi parlamentari e ministeri da piazzare con 400 emendamenti. Considera che il ministro Giorgetti di norma è un pessimista, cioè è difficile farlo sorridere, è difficile strappargli qualche promessa concreta, non parla mai a Vanvera, se ne guarda bene. È una persona molto particolare che secondo noi merita quel posto, anche perché non c'è ancora. Fu lui a parlare per la prima volta di manovra di transizione, perché questa manovra, come abbiamo potuto leggere, non è una manovra che ha avuto il tempo per maturare come normalmente hanno le manovre di bilancio, le manovre che il governo prepara, perché in 20 giorni praticamente… Non è vero che c'era anche che il governo Draghi ha lasciato uno schema abbastanza importante, però è anche vero che onestamente in così pochi giorni costruire una manovra che sia di durata e che abbia una prospettiva lunga non è facile. E soprattutto il governo teneva molto anche che fosse un inizio di rispettare le promesse fatte e gli impegni presi in campagna elettorale, tanto che poi alla fine Giorgetti l'ha definita responsabile e coraggiosa, seppur alla velocità del suono. Forse domani è in audizione il MEF alla Camera, forse domani iniziano le parti sociali. L'audizione la cominciamo oggi. Devo dire che al di là di tutto immagino che se fossimo in patto di stabilità vigente probabilmente l'Europa definirebbe questa manovra non totalmente in linea, perché questa è una definizione che utilizzano a Bruxelles per dire che la manovra è secondo gli schemi e secondo i canoni previsti dai regolamenti e dal patto di stabilità, però non in tutte le sue parti. Ma d'altro canto fin da subito si è detto che doveva essere una manovra diretta soprattutto ai fragili, una manovra diretta ad affrontare l'emergenza. Ecco che abbiamo qui il Ministro. Buongiorno Ministro, ci spiace di non vederla qui fisicamente, ma almeno la vediamo più grande. Grazie comunque di aver accettato. Sappiamo che lei è molto impegnato a preparare un Consiglio dei Ministri che riguarda molto il suo Ministero oggi pomeriggio e quindi la perdoniamo per non essere qui presente, ma la ringraziamo ugualmente naturalmente. La domanda è semplice, di partenza. Abbiamo affrontato su questo palco i problemi che verranno nei prossimi mesi. Si è parlato, noi abbiamo titolato il nostro evento, la recessione che verrà, qualcuno ha corretto a partire dal Commissario Gentiloni dicendo che sarà una contrazione invernale. Questa manovra che avete, ecco, contrazione invernale è una cosa che si può utilizzare, potreste voi del Governo utilizzarla spesso in questo periodo, a seconda delle esigenze. Allora la domanda è semplice. Di fronte alla possibilità che ci sia appunto un aggravamento della situazione, lei ritiene che questa manovra, che è diretta soprattutto ai fragili, è in questa fase meno diciamo al mondo della produzione. È in grado di affrontare questi eventi che ci possono colpire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio. Vi ringrazio soprattutto della comprensione, nel senso che stiamo vivendo dei momenti frenetici, ovviamente per la definizione di ulteriori misure, oltre che la preparazione della discussione della legge di bilancio in Parlamento. Prima di tutto vorrei dire una cosa, nel senso che il titolo fa riferimento alla recessione, dandola per scontate, inevitabile, ovviamente anche noi consideriamo questo un evento, ahimè, probabile, però fare previsione di questi tempi è assolutamente impossibile, specialmente ovviamente nel medio-lungo termine, quindi siamo costretti tutti quanti in qualche modo a confrontarci con diverse stime, quelle del Fondo Monetario Internazionale, che ci danno in recessione, la Commissione Europea ci danno in una lieve crescita. La realtà è che, non so se la definizione che ha dato da Gentiloni sia corretta, sicuramente tutti quanti abbiamo per scontato un problema che avremo sicuramente nella stagione invernale e che è direttamente connesso alla dinamica dei prezzi delle materie prime e soprattutto dell'energia e che dipende da situazioni e eventi tragici che non sono purtroppo nella nostra disponibilità. Quello che ha fatto il Governo con questa legge di bilancio è prendere atto della realtà e la prima realtà che riguarda l'Italia è che, diversamente da altri paesi, magari europei, noi abbiamo due fronti da tenere, l'industria militare si sarebbe estremamente complessa. Abbiamo il fronte naturalmente dell'emergenza energetica e quindi tutto quello che serve per mettere in protezione le imprese e le famiglie rispetto alla dinamica dei prezzi dell'energia, totalmente nuove rispetto all'epoca recente e l'altro fronte che altri non hanno ma che per noi è comunque significativo e che abbiamo la sostenibilità del debito con cui ci dobbiamo confrontare praticamente ogni 15 giorni, ogni mese e relativamente a quello che potrà accadere nel 2023, questo fronte continua a essere un fronte a cui porre attenzione e quindi anche a tutti i commentatori che in qualche modo si è, non dico divertito, ma si è applicato a dare un giudizio a questa manovra, io credo che questa manovra ha fatto quello che deve fare un Governo con grande senso di responsabilità e cioè tenere tutti e due i fronti, in base alle disponibilità che sono, diciamo così, previste dalla legislazione legente e da quei margini che potrebbero offrire anche ovviamente le interpretazioni, per fortuna ancora abbastanza elastiche rispetto al fatto di stabilità. Non è un caso che il Governo ha deciso di utilizzare quel minimo scostamento che abbiamo proposto alla Commissione europea esattamente per destinare tutto questo scostamento alle mitigazioni per famiglie e imprese e l'abbiamo fatto in un modo addirittura più mirato rispetto a quello che ha fatto il Governo Draghi di cui io facevo parte, cioè l'abbiamo indirizzato tutto a favore delle famiglie più bisognose e ribadisco delle imprese, prendendo decisioni anche coraggiose come quella di togliere progressivamente lo sconto sulle benzine e il gasolio che si riferisce a tutta, diciamo, la platea dei contribuenti non esattamente soltanto alle famiglie povere. Però l'abbiamo fatto in un approccio di prudenza senza fare pazzie, diciamo così, di bilancio, manovre ultraespansive come qualcuno si suggerisce senza peraltro suggerirci le coperture e in questo modo credo abbiamo dato anche un segnale di serietà che i mercati hanno apprezzato. A me risulta che lo spread ad esempio si sia ridotto in queste settimane. Per carità forse è una tendenza non definitiva ma che in qualche modo ci conforta nelle scelte che abbiamo attuato. Abbiamo fatto anche all'interno di questa manovra una scelta coraggiosissima che magari in passato nessuno ha fatto. Abbiamo spostato e forse qualcuno non se ne è accorto, abbiamo preso risorse dalla Previdenza e le abbiamo messe sulla famiglia, sui figli, perché senza futuro non ci sarà riforma delle pensioni, senza figli, senza futuro non ci sarà riforma delle pensioni che possa essere sostenibile e l'abbiamo fatta pur in un momento così delicato e così difficile anche per la finanza pubblica. Quindi cerchiamo di tenere due fronti, stiamo cercando di farlo nel modo migliore possibile, ma non in qualche modo dimentichiamo quella che è la situazione generale in cui ci troviamo. Io credo che magari qualche intervento in precedenza l'avrà toccato questo tema, ma io lo ribadisco con forza. Di fronte a una situazione come quella che viviamo e la recessione annunciata, comunque la crisi complessiva globale, in giro per il mondo ci sono diversi tipi di risposte in cui ci si interroga su quello che potrebbe essere il ruolo, chiamiamolo così per semplificare, dello Stato o non solo dello Stato italiano, dico io dell'Europa, su come affrontare questi tipi di sfide. Io non faccio riferimento a regimi autoarchici e alle loro misure, ma se vediamo quello che sta accadendo negli Stati Uniti d'America e dal ruolo che sta assumendo le decisioni che ha assunto il governo americano, l'Inflation Reduction Act ad esempio, rispetto a misure che sono prossime a forme di protezionismo, di intervento di retto, di sussidio da parte dello Stato a favore del sistema produttivo delle produzioni domestiche, quindi evidentemente non è soltanto trampismo, ma mi sembra che la direzione sia quella, ci dobbiamo chiedere come l'intervento pubblico in Italia e a livello europeo in qualche modo si aggiorna rispetto a questo tipo di situazione per mantenere condizioni di competizione a livello internazionale. Quindi è un tema questo, basti vedere, faccio un esempio, in Germania come hanno proceduto nazionalizzazioni diciamo così sostenute nel campo energetico, che in qualche modo interrogano e devono interrogare la politica. Quindi io quello che voglio dire è che questa manovra naturalmente merita di essere criticata, perché tutte le manovre meritano di essere criticata, ma credo che in questa situazione di estrema difficoltà, di urgente difficoltà, per cui come è avvenuto nel governo Draghi, di cui io mi sono onorato di far parte, probabilmente una legge di bilancio annuale o priori annale rischia di essere così un esercizio anche solo teorico. Lo mettiamo in preventivo? Sì, ogni magari tre mesi, ogni quattro mesi, in base a quello che succede in Europa, nel mondo, ci dovremmo rimettere a un tavolo e aggiornare le previsioni? Assolutamente è imprevedibile questo e quindi questo è lo spirito di grande responsabilità che abbiamo adottato e dobbiamo ammetterlo. Tutti i governi recenti si sono trovati a dover fronteggiare emergente ogni volta in attese e quindi gravide di decisioni difficili. Il nostro governo non fa eccezione e tuttavia in questo quadro di evidente complicazione degli eventi abbiamo mantenuto nelle nostre scelte un equilibrio importante e che credo vada riconosciuto, tanto più che le nostre scelte si sono dovute attuare in un periodo di tempo oltremodo ristretto. Quindi, pressati dalla legge di bilancio, dalle urgenze della politica, dai vincoli europei e dalla nostra coscienza, abbiamo scritto una legge di bilancio positiva che io penso, credo risulterà utile all'Italia. Ministro, le facciamo una sola domanda perché la promessa va mantenuta. La domanda è questa. Lei ha parlato di Germania e di nazionalizzazioni. Ritiene che anche da noi, visto che ci sono situazioni abbastanza analoghe, si possa arrivare a tanto per alcuni cespiti, alcuni poli che sono strategici per il Paese? Allora, in alcune situazioni non si tratta di scelte, nel senso che non c'è discrezionalità, ma la concanetazione degli eventi e la situazione geopolitica è tale per cui, su produzioni di interattere strategico, per cui non c'è oggettivamente o potrebbe non esserci la possibilità di continuare la produzione di materie prime energetiche, probabilmente si deve studiare, stiamo studiando e se necessario prenderemo decisioni che rispettando i principi anche costituzionali del diritto di proprietà permettano la continuazione della produzione. Questo è doveroso farlo, è una materia su cui stiamo riflettendo e penso che a brevissimo avremo una risposta anche di questo tipo. Dopodiché io non sono un teorico dell'intervento dello Stato dell'economia, penso che l'economia e le imprese debbano avere gli imprenditori a capo, a decidere le grandi scelte, però è anche vero che in un'epoca di trasformazione come questa lo dimostra anche il piano nazionale di ripresa e resilienza su cui noi continuiamo a investire e credere per una grande trasformazione del Paese. È chiaro che questi momenti di grande trasformazione devono essere accompagnati, devono essere accompagnati anche dall'intervento intelligente, dalla mano pubblica che in qualche modo aiuta e sostiene gli imprenditori più coraggiosi che si avventurano in quelli che sono dei terreni inesplorati e allo stesso tempo abbiamo il dovere in quelli che sono i presidi strategici, dove ci sono i crocevia strategici anche per quanto riguarda le forniture di materie prime, di essere attenti e di non voltarci dall'altra parte. Tenendo presente che ovviamente poi quando interviene lo Stato è molto facile chiamare l'intervento dello Stato a risolvere i problemi, poi bisogna capire se lo Stato è all'altezza, o meglio la mano pubblica è all'altezza di fare le cose fatte per bene. Questo, diciamo così, se leggiamo la nostra storia italiana troviamo degli esempi illuminanti di grande positività, ma troviamo anche dei grandi errori che hanno lasciato, diciamo così, gravi ferite. Un susseguirsi di interventi dello Stato, diciamo così, poi si sono diventati. Grazie Ministro, sappiamo che ha tantissimo da fare. Buon lavoro, buona giornata.